Bella, una macchina... Nooo, è Saetta McQueen! È Saetta McQueen! Wow, un good! Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel nuovo video di Minecraft! Oggi, come potete vedere, siamo in compagnia di questa persona, ma voi mi direte, chi è questa persona? Questo ragazzo è un mio grande fan ed è fra i migliori a costruire nel nostro incredibile server iPixel delle Build Battle Ciao, ciao Ultimate! Come va? Ultimate Ita, ragazzi, è veramente fortissimo Ho chiesto ad Ultimate se voleva fare una partita insieme a me ed ha accettato, quindi oggi ne vedremo delle belle Voi lasciate subito un like e cominciamo! Via! Sei pronto Ultimate? Io sono prontissimo Tu? Sì, con i cuoricidi! Yeah! Salve uomo lucertola! Uomo lucertola, tutto bene? Ha un'aria un pochettino assonnata Perfetto ragazzi, è venuta una mongolfiera, guardate Ultimate che bellissimo sfondo che ha, wow, è incredibile Allora, cominciamo, vediamo, cosa sta facendo lui? Forse una stradina sta facendo? Allora, perfetto, sto riempiendo questo laghetto ragazzi, lui sta facendo una mongolfiera Io intanto faccio il paesaggio, allora, riempiamo tutto d'acqua, deve essere tutto perfetto perché altrimenti a me non va proprio bene Allora, mettiamo le canne da zucchero qua, perfetto, facciamo una bella stradina con tantissime decorazioni di fiori Perché a me piacciono un sacco tutti questi bellissimi fiori Ok, un pochettino qua, perfetto, bene, 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 verrà proprio una costruzione incredibile Vediamo, oh, si sta facendo una costruzione veramente incredibile, bravo, bravo Ultimate Bene, voglio subito un primo posto, ce lo meritiamo già perché siamo simpatici, sì, ragazzi, siamo veramente simpatici Ultimate Allora, facciamo un pochettino di vegetazione, perfetto, così, ok, bene, bene, perfetto Lui sta facendo la mongolfiera, ok, molto bene, secondo me verrà una costruzione epica Allora, prendiamo un po' di pietrisco, poi prendiamo anche delle lastre di pietra e prendiamo anche delle foglie Sì, perché ho in mente, perché ho in mente di fare una cosa molto carina Ecco, facciamo delle decorazioni tutte qua, perfetto, così Ok, lui sta facendo una mongolfiera decisamente grande Io devo darmi una mossa perché devo fare il paesaggio più bello della storia di Minecraft Allora, visto che a me piace un sacco fare i paesaggi, sono molto contento di aver scelto questo tema Sono contentissimo, bella faccia, non ti perdere in chiacchiere, forza Allora, faccio un altro po' di qua, così, perfetto Metto un po' di questi, così, ok, perfetto Adesso devo metterli anche di qua Wow, che dettagli, ti piacciono Ultimate? E anche la tua mongolfiera è veramente bellissima Allora, facciamo qua, oh porca miseria, ho sbagliato, cavolo, cavolo Allora, adesso faccio una giungla, no, sto scherzando Adesso pianto un sacco di alberi perché qua ci sarà una foresta bellissima Vediamo, si, sta facendo la mongolfiera più bella che io abbia mai visto Bravissimo Ultimate Allora, adesso faccio crescere tutti questi alberi Veloce, veloce, crescete, crescete forti e sani, crescete forti e sani Porca miseria, ho sbagliato lì E mettiti qua Veloce, 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 cresci, cresci, cresci Vediamo come sta venendo Wow, che mongolfiera incredibile Ok, qui gli alberi ci sono Aggiungo un altro po' di panorama Bellissimo È proprio bello, è una mongolfiera che sta attraversando un piccolo laghetto Wow, ragazzi, vi piace? È una costruzione incredibile Ok, perfetto Wow, bellissima Allora, potrei fare una mini cascata Vediamo, vediamo se ho tempo Allora, la faccio qua Ce la dovrei fare, forse Proviamoci, proviamoci Faccio un mini laghetto Forza, forza, veloce, veloce, veloce Veloce, veloce Ci dobbiamo sbrigare, ci dobbiamo sbrigare Ci dobbiamo sbrigare Un minuto, un minuto, bella faccia Ce la devi fare, ce la devi fare Allora, lo facciamo venire giù di qua Ok, perfetto Veloce, veloce, bella faccia Devi fare velocissimo 15 secondi, 15 secondi La costruzione più veloce di sempre Hai mai fatto? Mamma mia, veloce, veloce, veloce Porca miseria Eh, non riesco a metterli No, 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 cavolo Non riesco a metterli Vabbè, va bene, va bene Carina, carina così Bellissima Wow, che costruzione incredibile Ok, vediamo quella degli altri Sì, carina questa costruzione Un ok Ok, vediamo Uh, carina questa Molto piccola C'ha anche il fuoco Sì Un ok, un ok Se lo merita Quest'altra Wow, che mongol Oh, eccola qui Pensavo non l'avevo vista Bella questa Un bel good si merita Mi piace veramente tanto Oh mio Dio Ma cos'è successo qui? Che cos'è successo? Una mongolfiera piena di lava Eh, mi dispiace un pup Uh, carine queste Mi piacciono Delle mongolfiere Con delle persone dentro Sì, un ok Abbastanza carina Uh, la nostra La nostra Wow Incredibile Abbiamo fatto tutto questo in pochissimo Veramente bello Wow Abbiamo vinto Fantastico ragazzi Guardate che costruzione incredibile Siamo stati bravissimi Wow Batti 5 Ultimate Dove sei? Dove sei Ultimate? Una macchina Un libro Poi vediamo che cosa c'è Un secchiello Una macchina potremmo fare Vediamo Una macchina Una macchina Perfetto Stanno votando tutti macchina Vai, vai macchina Ok Una bella macchina Perfetto Sì, sì, sì Una bella macchina Vediamo Eh, possiamo fare la strada Ok Vediamo di fare una macchina decisamente carina Uh, guardate Sta cambiando il paesaggio Che bello Mamma mia Wow Ok, allora Che cosa sta facendo lui? Che cosa sta facendo? Allora Devo replicare L'altra ruota Che ha fatto Però non è molto semplice Spero di farla Spero di farlo uguale Ragazzi Allora Qua ce ne vanno Altri due Così Poi qua Ce ne va un altro Così Ok Spero di farlo bene Bella faccia Impegnati Ma guardate Che bel paesaggio Che ha messo Eh, bella faccia Concentrati Non c'è tempo di guardare il paesaggio Ok L'ho fatta bene Sì L'ho fatta veramente bene Prendiamo i materiali Che ha preso lui Prendo questo E questo Perfetto Ok Quindi ha messo Tutti quei cosi lì Con l'andesite Che cos'è? Sì Andesite levigata Facciamo i cerchioni Della macchina Voglio vincere ragazzi Non mi accontento Voglio vincere un'altra volta Perfetto Lui poi ha fatto Questa cosa Dovrebbe essere così L'ho fatta bene Vediamo Sì perfetto L'ho fatta bene L'ho fatta bene Ok Cosa Non capisco Sembra una motocicletta Sembra Non capisco bene Però Ok La replico Anche di qua Wow Ma lui va velocissimo Ma che cos'ha I superpoteri Vediamo Qua potrei fare Una specie di marmita Vediamo Ok Così La possiamo fare Di qua Così Ecco Perfetto Copriamo La nostra bella macchinina La macchinina Più veloce Del west Ecco Qua magari Possiamo farci Dei vetri Così Non so Può andare bene Ti piacciono questi vetri Sono carini Qui chiudiamo Tutto Perfetto Uh Bella questa macchina Mi piace un sacco Qua mettiamo altri vetri Non so Ci possono stare Questi vetri Sono carini Secondo me Sono molto carini Così Vediamo Sì Abbastanza carina Penso Uh Possiamo farla Tipo da corsa Vediamo Così Questo è il motore Che esce Il motore Della macchina Che esce Vediamo È carino Così Non lo so È abbastanza carino Forse Eh però Ho sbagliato Questa Qui non va la marmita Porca miseria Questa marmita Lo sapevo Vediamo Lo scarico Qua Dai così ci sta Ci sta lo scarico Così Bella E magari qua ci faccio Delle strisce pedonali Vediamo Vediamo se ho tempo Vediamo Così Facciamo le strisce Facciamo le strisce 15 secondi 15 secondi Perfetto Perfetto Vediamo Oh sì Carina Bella Questa macchina Wow È molto grande E particolare Vediamo gli altri Cosa hanno fatto Ok Qui hanno fatto Una specie Di bus Bella Questa carina Però non è tanto Finita No Non mi piace Molto un poop Uh Qui delle macchine In fila Con un semaforo Sì L'idea è buona Però Le macchine Sono un po' piccoline Dai Vabbè Un ok Dai Uh Qui c'è la neve È un trattore No Che cos'è Ah è una specie di jeep Ok Un Un good Mi piace Abbastanza carino Uh Qui la navicella Uh Bella faccia Leggendario al fan Grande fan Grazie Bellissimo Anche la macchina È molto carina Uh Bello questo Stop È una Ferrari Bella Eh Questo è un bel good Si merita Un bel good Qui abbiamo Oh mio dio Abbiamo dei Uh Dei villager Che trasportano qualcosa Sì Un ok Anche qui Uh Bella questa Bella È una macchina No È Saetta McQueen È Saetta McQueen Wow Un good Non mi piace Wow Non mi piace moltissimo Guardate Perché sotto L'ha fatta Non lo so Però wow Che idea Molto carina Ecco la nostra Votate tutti Leggendario Forza Leggendario Votate Leggendario Questa Una bella macchinina Si merita Un bel ok Queste belle macchinine Oh mio dio Ci sono dei villager In mezzo Non correre così veloce Siamo arrivati Secondi Cavolo Secondi Per un soffio Wow Saetta McQueen Ragazzi Ha vinto Saetta Non ci posso credere Bene ragazzi Wow Che costruzioni incredibili Che abbiamo visto oggi Ultimate Sei stato veramente bravo Ti nomino Colonnello Pancetta Si colonnello Pancetta Ragazzi per oggi È tutto Noi ci vediamo Domani Con un nuovo Bellissimo Video Da me Da Ultimate È tutto Ci vediamo Domani Ciao Ciao